La Sicilia. La Sicilia confina a nord con il mar Tirreno, a ovest con il mar di Sicilia, a sud con il mar Mediterraneo e a est con il mar Ionio. Il territorio è caratterizzato per il 62% da collina, 13% da pianura, 24% da montagna. I monti più importanti sono i monti siciliani, Madonie, i monti Erei, i monti Nebrodi, i monti Peloritani, più a sud l'Etna e ancora più a sud i monti Iblei. I mari. A nord la Sicilia confina con il mar Tirreno, c'è poi lo stretto di Messina che separa la Sicilia dalla Calabria. Ci sono le isole Eolie, Stromboli, Panarea, Lipari, Vulcano, Salina, Filicudi, Alicudi, Ustica, a ovest le isole Egadi, Marettimo, Levanzo, Favignana, poi c'è Capo Boeo e poi Pantelleria e a sud di Pantelleria le isole Pelagie, Lampedusa, Lampione, Linosa. A sud la Sicilia confina con il mar Mediterraneo, c'è poi verso est l'isola delle correnti e infine ad est confina con il mar Ionio. Le coste sono alte e rocciose a nord al confine con il mar Tirreno, basse e sabbiose a sud ovest e basse e sabbiose anche nella parte meridionale dello Ionio, mentre nella parte settentrionale dello Ionio abbiamo coste alte e rocciose. I fiumi più importanti sono il Belice, Platani, Salzo, Simeto, Alcantara. Il clima lungo la costa e Mediterraneo caratterizzato da inverni miti e stati calde molto ventilato. Popolazione e città, il capoluogo di regione è Palermo con 678 mila abitanti, c'è poi Catania con 315 mila abitanti, Messina 240 mila, Siracusa 122 mila abitanti, Ragusa, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Trapani. La Sicilia è una regione a statuto speciale. L'economia, l'agricoltura nelle colline all'interno ci sono coltivazioni estensive, mentre sulle coste coltivazioni intensive che attraverso l'ausilio di macchine riescono ad aumentare notevolmente la produzione agricola. poi ci sono coltivazioni di cereali all'interno, nella pianura di Catania agrumi, così come a nord, nella conca di Palermo, c'è la produzione di agrumi. Poi a Mazzara del Vallo l'importante è la pesca e in ogni caso le produzioni più importanti a livello agricolo sono olive, uva, mandorle, fichi, ortaggi. Per quanto riguarda l'industria possiamo vedere che è molto importante l'industria petrolchimica, metalmeccanica, alimentare, cantieristica e poi ci sono i collegamenti attraverso traghetti con la Calabria. Sviluppato il turismo lungo le coste e l'artigianato in modo particolare di ceramiche. La Sicilia per quanto riguarda gli occupati ha il 65,5% degli occupati, il 21,9% di disoccupati e gli addetti per settore sono 6% primario, 16% secondario, 78% settore terziario. Iscriviti al canale, in questo modo hai la possibilità di consultare le nostre playlist per ogni materia. Buono studio da Ho preso 10.